La figura dell'inetto non va confusa semplicemente con la figura del fallito. L'inetto ha delle caratteristiche precise che qui è bene rievocare. L'inetto è da una parte portatore di aspirazioni ideali alte e profonde, potremmo dire di un istinto eroico che deriva dalla tradizione romantica e tuttavia questi valori, queste idealità, perfino queste aspirazioni eroiche si presentano nell'inetto in forma velleitaria. Egli cioè non è in grado di sostenere i propri ideali con un comportamento adeguato. Non è più all'altezza dei propri ideali e proprio per questo è destinato al fallimento. La velleità degli ideali provati decreta l'insuccesso e il fallimento dei protagonisti dei romanzi in cui l'inetto sia al centro.